No, no, abbiamo pensato anche a Capodanno Cioè, volete riformare pure quello? No, perché sapete, ci sono i fuochi d'artificio che sono molto pericolosi Certo Quindi noi regaleremo degli oggetti per festeggiare in tutta sicurezza Cioè, che cosa? Le carabine Ma come le carabine? Guarda che lì vedo armi di tutti Ma l'abbiamo le armi al pubblico, ma scusi Non l'altro, eviterei di darle da persone in studio Ti mostro che sono divertenti e sicurissime Sì, come? Sì, sono divertenti Le armi divertenti Come fa a dimostrarcelo? Facciamo una prova del controllo rovescio Sì, che è Capodanno Sì, sono tutte assalte Uno Buon anno Buon anno Ma scusi Ma hanno ucciso il gracchio blu Ma no Ma dai Ma capirà, diremo che è caduto dalle scale Ma chi è caduto dalle scale? Ma chi è caduto dalle scale? Lo dite troppo spesso Anche lei, buon Natale Mettela sicura Eh, sì, ma non così Ma quella non è la sicura Ma che è successo? Ma no, ma anche Gonzalo Ma dai Ma cosa è una strage? Ma manca avesse ucciso Ciro, dai Ma che c'è?